Benvenuti, venite più vicino, ancora più vicino, non importa chi siete. Tutti sono i benvenuti qui. Siete al sicuro con me? Non dovete preoccuparvi di niente, vi proteggerò da ogni male. Potete affidarmi tutto quello che volete. O semplicemente restare con me per un po' e ascoltare la mia voce. Le vostre preoccupazioni si stanno già sciogliendo. E tutta l'energia negativa vi sta lasciando oppure si sta trasformando in amore e luce. Potete immaginarlo come la luce argentata, onorata, che inoglia lentamente ogni parte del vostro corpo. Potete sentire il piacevole calore e un delicato formicolio. A volte abbiamo tutti bisogno di riposare e riprendere. Abbiamo tutti bisogno di riposare le forze e nuova energia e questo va assolutamente bene. è importante trovare il tempo solo per sé stessi. Per fare qualcosa che vi dia gioia. Lo sapevate che potete avere tutto quello che volete. Se quel desiderio viene dal profondo della vostra anima si avvererà. Può davvero essere qualsiasi cosa? perché tutto ciò in cui potete credere lo potete anche realizzare. e non lasciate mai nessuno di convincervi di al contrario perché ne valete la pena e ve lo meritate. Se volete potete provarlo subito, chiudete gli occhi e chiedete a voi stessi cosa desidero. Cosa voglio veramente? Cosa mi rende felice? Immaginatelo. Sentitelo. Sperimentatelo. E percepite come vi sentite. Quanto bella nuova energia scorre attraverso di voi. come se lo aveste già. L'universo ascolta sempre. Tutto quello che dovete fare è dargli un segno. potete inviarlo sotto forma di un pensiero. Può essere una preghiera. potete scriverlo o dirlo ad alta voce. e poi guardatevi intorno per non perdere il segno che l'universo vi mangia. l'universo si muove sempre nella direzione del vostro pensiero più forte. Ora dobbiamo salutarci piano piano. Ma potete tornare da me in qualsiasi momento. e io sarò qui per voi. Ricordatevi che siete molto importanti. E non siete mai soli. Vi auguro buona fortuna. Grazie. Grazie. Grazie.